Clean shit, quindi il modo in cui si affrontano le situazioni magari un po' più difficili nella vita quotidiana per cui è un po' semplicemente un indole Il nome Clean Shit l'ho inventato un paio di giorni dopo la scomparsa del mio cane per cui da quello mi è venuto in mente subito di utilizzare la parola shit in quanto voleva dire foglio ma chiaramente pronunciandolo in un certo modo è semplicemente merda e accostandolo a Clean scritto K-L-E-N che sarebbe il nome del mio cane a livello di pronuncia e di ascolto comunque rimane sempre lì quel tipo di doppio senso che fa diventare Clean Shit un foglio bianco, un risultato positivo in termini sportivi e il foglio di Clean, merda pulita Il termine che adesso ad oggi ha in verità io non me lo spiego neanche in quanto mi sembra più un cumulo di sensazioni che col tempo ho accumulato e ho fatto mie semplicemente chiamandole come Clean Shit L'unione di queste due parole che sono due parole anche abbastanza ambigue perché a seconda di come le leggi possono significare cose differenti crea questo nome che appunto può essere interpretato in tantissimi modi diversi passando per i significati che forse sono anche un po' più interessanti come quello di foglio pulito che rappresenta la partenza l'idea dell'atto creativo che nasce dell'idea di raccontare una storia o di iniziare a raccontare una storia unito poi a quello che ancora forse è più interessante che è lo simoro Clean Shit inteso come merda pulita perché quando tu metti sul piatto tutte le tue debolezze, le tue fragilità anche le cose più sporche e brutte che hai dentro nel momento in cui tu le vuoi raccontare che sia in un pezzo che sia in un racconto che sia con un video in qualche modo diventano pulite nel senso che è un modo catartico per portarle fuori poi diciamo anche che Clean Shit nella terminologia calcistica è una formula utilizzata per esprimere l'assenza di reti subite quindi una vittoria flawless perfetta e questa è anche l'idea non nel senso rapperistico ed egocentrico del termine ma perché il motivo per cui facciamo quello che facciamo è semplicemente stare bene insieme e esprimerci quindi se questi sono i punti di partenza, se questo è il presupposto non si può fallire perché la vittoria sta nell'atto stesso di fare quello che stiamo facendo Famiglia è un concetto allargato ormai a semplici sensazioni che poi vengono confermate nel tempo secondo me ad oggi la parola famiglia è semplicemente chi ho attorno senza chiederlo, senza aspettarmelo e a chi gravita attorno insomma le parole chiave che potrebbero definirci probabilmente sono semplicemente Clean Shit diciamo che l'idea di famiglia dà sempre un po' un concetto di inevitabilità perché la famiglia non te la scegli e per noi nel Clean Shit è un po' così non tanto perché non ci siamo scelti a vicenda quanto perché come nella famiglia rientrare a contatto con il Clean Shit è un modo per sentirsi tranquilli è una cosa che sappiamo che c'è sempre questo non vuol dire non mettersi in discussione o dare le cose per scontate ma vuol dire sentirsi liberi di essere se stessi insieme agli altri penso che la famiglia sia anche diciamo le persone che in qualche modo vivono con te una serie di cose importanti nella tua vita che in qualche modo dividono con te il peso di questi avvenimenti da dentro la scatola è un po' difficile autodefinirsi con delle parole chiave però ci sono sicuramente degli elementi ricorrenti che sono la coesione la fratellanza soprattutto perché non c'è valore più grande forse nel nostro rapporto e la semplicità la semplicità delle piccole cose che partiamo avanti e delle piccole cose che ci emozionano e che viviamo insieme in qualche modo ci regalano delle belle sensazioni io sono l'ultima ad essere arrivata a Milano quindi in realtà mi ci sto abbastanza adattando però sono stato accolto a braccia aperte perché non solo posso fare quello che voglio e sopravvivere anche grazie a quello che faccio ma vengo chiamato per fare quello che amo che è una cosa che per la piccola provincia o comunque in realtà da cui vengo io è una cosa abbastanza strana perché quello che io faccio qui a Milano da dove arrivo è anche visto come una perdita di tempo semplicemente in quanto hobby quindi per me arrivare a Milano nell'ambiente di Milano in un ambiente così fervido e così accogliente anche nei confronti delle idee giovani è stata un'accoglienza gigante che mi fa stare in realtà molto sereno anche col clean sheet nella quotidianità di tutto quello che facciamo io Tank e Jumo eravamo solo dei ragazzini abbiamo avuto più scontri che incontri ma da questa unione siamo riusciti ad arrivare a conoscere persone come Maggio Gawa, Ratematica nonostante tutti gli screzi e tutti i momenti difficili siamo riusciti a costruire una famiglia io vengo dal Tamura così come Tank e Jumo e posso dire solo una cosa una volta che sono andato via nonostante le mie radici ho concepito una singola frase se lascio il paese il paese ti lascio nonostante le mie